Sassari, viste le crescenti richieste di permesso di soggiorno e o informazioni relative alla crisi ucraina, ad accorrere dal 22 marzo gli sportelli dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Sassari saranno aperti anche nelle giornate del martedì e del giovedì pomeriggio, dalle ore 14 e 30 alle ore 17. Il servizio sarà dedicato esclusivamente alla gestione delle esigenze inerenti, la predetta crisi ucraina, altre eventuali informazioni e modulistica relativa al servizio dei passaporti, porti d'arma, le licenze, permessi di soggiorno e le autorizzazioni di polizia sono disponibili nel sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it